Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Elodie, io sono Alessia e oggi sono andata Faccio questo video prima perchè dopo non ci sono, quindi devo fare un video adesso Il Benji ha battuto il Giappone 3 a 2 ma veramente all'ultimo secondo è andato al 94 Il Giappone è andato a casa e io l'Inghilterra ha vinto nei rigori Comunque il gol del, come si chiama? Il gol del Colombia all'ultimo, all'ultimissimo All'ultimissimo ha segnato l'Inghilterra, il Colombia e ha portato un pareggio E poi sono andato in super l'Italia e poi l'Inghilterra ha vinto all'interno Comunque oggi non giocano, non so perchè, non si riposano per essere bene E niente, adesso vado a casa e niente, ci vediamo Verdi Verdi, vediamo al 30 A ver, vi volevo dire che venerdì uscire il video alle 20 perchè alle 21 e 30 non ci sono Verdi alle 20 e niente, e c'è Verdi alle 20 perchè alle 21 e 30 sono fuori, cioè non sono a casa Io non potrò fare il video, quindi ci sono Verdi alle 20, Verdi alle 20 e niente, bello